Eccolo qui, l'A3 Eccolo qui, la pelle represents i Besson Questi altri C'est la pieta Grazie a tutti. Ma che è successo? Sono soltate una, due, tre, quattro macchine. Due XI. Questa è una XI? Scusami. Scusami. Yessi. Scusa, tu dicevi, sì, mille e miglia, mille e miglia, va bene, che cosa è mille e miglia? Hai tolto i tuoi M4, tu sai che è, niente. Allora, io trovo due Subaru, anzi, una Subaru e una Ford, basta. Una Ford erano due. BG. Velo. BG. A me fanno paura. A me fanno paura. A me fanno paura. BG. 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 Soltà qualcuno, andiamo! Bravo! Bravo! Speriamo! Speriamo! ... ... è stato riuscito perché è stato riuscito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.